Oggi in tutto il territorio nazionale le comunità terapeutiche che si occupano di tossicodipendenza si aprono al territorio. È il giorno dell'Open Day, anche qui a Bagheria la nostra comunità sta partecipando a questa giornata. Ci stiamo aprendo alle associazioni, alle realtà locali, agli enti pubblici che insistono tutti nei riguardi di questo grosso problema, quello della tossicodipendenza. Ci saranno delle scuole che verranno a visitare la nostra comunità, ci saranno anche i protagonisti del volontariato e dell'associazionismo bagherese e ci saranno anche i medici e gli operatori del CERT. L'idea, il concetto di base qual è? Quello di accorciare sempre più, se non abbattere, le distanze tra gli enti, le distanze tra le associazioni, le distanze tra la realtà locale e la comunità. In un periodo in cui il problema tossicodipendenza è sempre più presente, molto rilevante anche nel nostro territorio, avvicinare gli attori che si occupano comunque di disagio e il primo passo per cercare di porre rimedio a un problema così forte e così presente. Sicuramente l'ente pubblico ha un polso su quello che riguarda il territorio, su tutto ciò che concerne l'uso di sostanze e quindi sicuramente l'ente pubblico può essere un fanalino rispetto a ciò che invece il privato sociale può aiutare e può garantire a fare in un percorso successivo. L'ente pubblico si occupa dell'immediato di gestire quelle che sono le criticità della fase acuta di un tossicodipendente o di un alcolista o di altre problematiche che sono le dipendenze comportamentali che si sono sempre più sviluppate nell'ultimo periodo. Il privato sociale in questo caso ci aiuta nella fase successiva nel mantenere sicuramente un beneficio e un benessere del paziente e nel garantire una continuità poi rispetto alle cure. Il CERT sicuramente fa anche degli interventi di tipo formativo, informativo e di prevenzione con i ragazzi delle scuole del territorio sia di bagheria che di tutto il territorio limitrofo di cui appunto si occupa tutto il servizio territoriale. E' importante essere qui oggi soprattutto perché i giovani devono avere un'immagine chiara di quello che è l'uso di sostanze in questo periodo che sicuramente fa emergere quanto l'età di utilizzo sia notevolmente ridotta quindi verso già una prima adolescenza. Intorno agli 11 anni si registra il primo consumo di alcol e intorno ai 14 il primo consumo di droghe pesanti e soprattutto anche per far capire quello che può essere l'intervento precoce di prevenzione andando nelle scuole e sicuramente per conoscere quelle che possono essere le nuove droghe che spesso non vengono riconosciute proprio perché arrivano e immediatamente vengono consumate dagli utenti prima ancora che il servizio possa averne un polso rispetto a questo. Quindi l'open day delle comunità è utile per fare vedere al territorio e per far conoscere quanto viene fatto sia nei servizi territoriali che nei servizi privati e socialmente utili e per cercare di prevenire questo problema che sta crescendo notevolmente soprattutto nei giovani.